Ancora morti per Covid in Irpinia. Ieri sera è deceduto un 76enne di Calitri ricoverato in terapia intensiva al Frangipane. Questa mattina un altro decesso al Moscati. Si tratta di una 74enne di Avellino, moglie di Antonio Melchionda, dirigente della CISL, morto anche lui per Covid, quattro giorni fa. E anche i contagi sono in risalita in Irpinia. Il bollettino dell'ASL riporta 106 contagi con cluster tra Serino e Tripalda. E sul piano della vaccinazione proseguono senza sosta le somministrazioni agli over 80. E per accelerare la campagna vaccinale saranno installate da parte degli uomini dell'esercito due nuove tende. Le somministrazioni avverranno a Campo Genova in modalità drive-in. Poi, in una fase successiva, al fine di coprire una bella fetta della popolazione, si utilizzerà anche la caserma Berardi. Buone notizie dal Moscati, invece. Con la sperimentazione del nuovo vaccino Ereitera, sono stati arruolati 50 volontari e l'infettivologo Leone, referente per la sperimentazione, ha convocato i primi nove. Per sabato prossimo tutti gli altri. Ma c'è un altro lato della medaglia al Moscati, quello del sindacato OSB, che questa mattina ha manifestato per chiedere la stabilizzazione. Non vengono assunti i lavoratori in modo stabile, ma si dà sempre spazio alle cooperative. E questo per noi non va bene, perché il lavoro deve essere stabile e deve essere sicuro. Pubblico, meglio, ma non perché è meglio perché il lavoratore non fa il proprio dovere, ma perché garantisce la salute sia ai pazienti, ma garantisce il lavoro e il diritto e la dignità di tutti i lavoratori di questo settore.